Ciao a tutti, mio nome è Graziella e parlo con voi da Italia, esattamente da Conversano, nella provincia di Bari. Ho pensato di fare questo video per mostrarvi le nostre tradizioni gastronomiche. Questo video è per tutti gli italiani e gli non italiani che hanno prodotto. Inizio parlo di parlare delle orecchiette, quindi oggi vi mostrerò come farle. Questa è la prima volta. In questa palla ho solo scattato la semolina e qui acqua acqua. Iniziamo a aggiungere acqua acqua alla semolina di semolina. In questa palla abbiamo 100 grammi di semolina e 50 grammi di acqua acqua. Dobbiamo ottenere una semolina e semolina. Perlare un'altra semolina. Iniziamo a aggiungere un'altra semolina. Vediamo il nostro coraggio. Un'altra semolina. Nel posto fa un'altra semolina, ma è rimbito prima. Está infasso, è altissimo. E' altissimo. Ci sono invece qui. E' altissimo e di più. Aciugare un'altra semolina. bisogna gnatare per un lungo tempo, fino a che sia semplice, in questo modo. da come potete vedere il compagno è semplice e fermo lo mettiamo a restare con plastica per 10 minuti prendiamo pezzi e facciamo corde come questo we cut we roll and we turn on the finger cut roll and turn on the finger I do it again again slowly cut roll and turn on the finger roll slowly don't press too much cut put the finger here you press you roll and you turn on the finger I repeat you cut press here and you turn these are orecchiette these are my orecchiette thank you so much for following to the next time bye bye